Un fenomeno naturale noto come pioggia demonica si verifica a Turpan nella regione autonoma Uigura de Xinjiang in Cina. Anche se le nuvole di pioggia scure passano sopra la testa, il tempo potrebbe rimanere caldo e asciutto sul terreno, riferisce China Today. La pioggia sembra cadere dal cielo e una persona può persino sentire la pioggia agitando la mano in aria. Tuttavia, nel clima estremamente arido di Turpan, l'evaporazione avviene a un ritmo più veloce rispetto alla pioggia. Così, la pioggia demonica evapora prima ancora di raggiungere il suoro. Grazie a tutti!